Per posizionare i defibrillatori sui muri dei palazzi serve l'aiuto degli amministratori di condominio e alla loro sensibilità che si appella Progetto Vita. Ci sono infatti 150 defibrillatori di quartiere ad uso di condomini e abitazioni da collocare a Piacenza, concentrati soprattutto nella zona di Viale Dante dove è più alta la mortalità per arresto cardiaco. Quattro sono già stati installati, altri sei verranno posizionati nei prossimi giorni ma c'è ancora tanto lavoro da fare. Alla fine saranno 150 quindi dobbiamo avere una grande disponibilità non solo mentale ma anche proprio pratica da parte di chi ci deve autorizzare a posizionarlo sul muro del condominio. Non è un grande sforzo se si pensa che questo strumento può salvare la vita. I cittadini saranno poi chiamati a partecipare volontariamente ai corsi per imparare l'utilizzo del defibrillatore, uno strumento che può fare la differenza in caso di arresto cardiaco. Con un intervento tempestivo nel giro di pochissimi minuti sono già state salvate tante vite. Faremo dei corsi che saranno per tutti e che cercheranno di togliere quelle piccole paure che possono ancora rimanere nonostante danni diciamo che il defibrillatore non deve far paura perché fa tutto da solo, decide se è necessario erogare la scarica e solo in quel caso si predispone per farlo. Questo sarà un modo per essere d'aiuto soprattutto ai familiari a questo punto perché essere non in grado di far qualcosa quando qualcuno sta male penso che sia il peggiore degli stati d'animo che si possono vivere.